Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. 70 grandi alberi in 6 capitoli e i giganti verdi di Portoferraio, la pubblicazione della Fondazione Isola d'Elba con il patrocinio del Comune di Portoferraio presentata sabato mattina nella Sala dell'Hotel Airone. Autori sono Carlo Gasparri, coordinatore della Commissione Ambiente della Fondazione Giorgio Cuneo. Non un'opera scientifica come è stato rimarcato dagli autori ma un libro per tutti per far conoscere le piante storiche che fanno parte del patrimonio di tutta l'Elba. Dopo quelle del capoluogo infatti saranno realizzate altre due pubblicazioni con le piante monumentali del versante occidentale e di quello orientale. Se siamo riusciti ad individuare questi alberi lo dobbiamo ai cittadini che ce li hanno segnalati, ha spiegato Carlo Gasparri e che hanno contribuito a questa pubblicazione. Da due anni Gasparri ha la scoperta delle grandi piante Elbane che ha catalogato nel libro corredandole con le coordinate GPS. Un libro voluto dalla Fondazione e soprattutto dalla Commissione Ambiente che ha realizzato il progetto. Questi giganti sono arrivati a noi perché qualcuno si è preso cura di loro, ha commentato il presidente della Onlus Elbana Marco Mantovani. E noi siamo entusiasti del lavoro fatto dalla Commissione. L'uomo deve avere un ruolo fondamentale nel preservare la ricchezza della natura. Non solo terra ma anche mare per la Commissione Ambiente. Tra i programmi per il 2016, come annunciato da Gasparri, una lente sul mare. Un progetto in accordo con i circa 40 diving Elbani che forniranno tutti gli elementi che rileveranno durante le immersioni per formare una banca dati.